Attenzione, il virus c'è ancora, con la stessa pericolosità, anche se la nostra regione entra nella zona arancione. L'avvertimento ai cittadini arriva dal prefetto di Lucca Francesco Esposito, da tutti i sindaci della Piana e anche dal presidente dell'Ordine dei Medici Umberto Quiriconi. Perché questo appello? Perché ultimamente l'attenzione di tutti sembra rivolta esclusivamente al cambio di colore dei territori e all'allentamento delle misure di prevenzione contro il Covid. Rischia cioè di passare un messaggio forviante, scrivono i sindaci in un comunicato, secondo cui la zona arancione corrisponderebbe ad un pericoloso quanto insostenibile liberi tutti. Ma il Covid, ricordano il prefetto ed i primi cittadini, cammina sulle nostre gambe e l'unico modo per contenerlo è quello di essere responsabili e ben consapevoli del fatto che le feste di Natale rappresenteranno un passaggio delicato e importante nella lotta al coronavirus. Sarà cioè quello il momento in cui ognuno dovrà continuare a mantenere alta l'attenzione, per evitare poi di doversi trovare a gestire la terza ondata a gennaio. Il contenimento del contagio proseguirà solo se, nonostante l'allentamento delle restrizioni, saremo capaci di rispettare le norme igieniche anti-contagio, concludono i sindaci. Quindi l'appello è quello di attenersi alle regole del distanziamento sociale, indossare la mascherina e igienizzarsi le mani.